Volevamo ringraziare il sindaco di Palermo, il presidente della regione, per la tempestività e non è sarcasmo di intervenire immediatamente con la chiusura di tutte le attività e rendere zona rossa Palermo per il numero di contagi che sta lievitando giorno dopo giorno. Quindi sotto l'aspetto sanitario non fa una piega, noi siamo favorevoli al problema sanitario principalmente. Tutto il resto poi va discusso. Va discusso e al primo punto il problema reale, quello che ci fa rabbia, è il fatto di essere stati inseriti prima nella zona rossa di poter lavorare tutti quelli del benessere perché lavoravamo per appuntamento, col distanziamento, col numero di persone che possono entrare all'interno dei locali e i servizi che si potevano fare distanziati l'uno dall'altro. Abbiamo fatto un protocollo, abbiamo eseguito perfettamente il protocollo, vedo che questo non è servito a niente perché subito dopo, quando abbiamo fatto il ricorso per dare l'opportunità di lavorare in zona rossa all'estetica, dopo aver vinto al taro, subito dopo ne esce fuori che in zona rossa non lavorano più barbiere e parrucchieri. Il problema che pongo io come rappresentante sindacale di questa categoria è oggi viviamo più e compriamo più ansiolitici e prodotti per dormire la notte che prodotti per vitalizzarci e restare all'interno dei locali a lavorare. Io quello che chiedo è che zona rossa va fatta e i numeri devono scendere, ma perché i parrucchieri quando io stamattina ho visto che quasi tutti i negozi sono aperti? Gli uniciuntori sono i parrucchieri? Io questo desidero sapere. Il problema reale è che oggi noi viviamo una situazione dove il lato sanitario è prioritario rispetto al lato economico, ma si muore per problemi sanitari, ma attenzione, si muore anche psicologicamente, si muore anche non economicamente solo perché manca il denaro, perché non dimenticate che noi fino ad ora non abbiamo avuto una lira, non chiediamo una lira e non vogliamo nulla, vogliamo solo lavorare nel rispetto delle regole. Che senso ha oggi chiudere noi e restare aperti tutti gli abusivi a Palermo? Oggi avete dato la possibilità agli abusivi di lavorare a Palermo e ne assumo le responsabilità. I controlli dove sono fatti, i mercati, a cosa servono se poi l'indomani sono sempre allo stesso modo? Sarà incivile il palermitano, saremo incivili tutti, ma quali sono le decisioni prese e che è cambiato il sistema fino ad ora? Io mi ritrovo un anno dopo a dover affrontare i problemi dell'anno precedente, precisi identici.